Benvenuti o bentornati su Fair Play. Oggi la nostra pagina di curiosità è dedicata ad un'attaccante italiana in grande crescita, Martina Piemonte, ingaggiata dall'Everton pochissimi giorni fa. Iniziamo! Nata a Ravenna il 7 novembre 1997, comincia, come tante altre, in una squadra mista di maschi e femmine. La sua prima vera esperienza calcistica risale al 2012, dopo essersi fatta notare dagli osservatori dell'Associazione Dilettantistica Sportiva Riviera di Romagna. E' stata, per quanto sia paradossale, una veterana nel suo periodo in nazionale Under-17, grazie alle ben 21 presenze collezionate tra l'anno 2012 e l'anno 2014. Le sue doti in area di rigore, però, emergono per la prima volta a partire dalla stagione 2014-2015, in cui passa al San Zaccaria, qui alla media di circa un gol ogni due partite in due stagioni, che le valgono la chiamata del Verona Calcio Femminile. Nel 2015 ha partecipato a Miss Italia, insieme ad altre due calciatrici. Si tratta di Deborah Novellino, all'epoca alla Pink Bari, e Alessia Sgagiaro, in forza alla Roma Calcio Femminile. Dopo la permanenza nella squadra veneta, vola in Spagna per affrontare una sfida europea, e nel giro di tre anni si ritrova da entrambi i lati il caldo derby iberico, ovvero con i colori del Siviglia e con quelli del Betis. Tra il 2016 e il 2021, la sua carriera è stata una vera e propria avventura, poiché ha cambiato una squadra all'anno. In ordine, Verona, Siviglia, Roma, Betis, Fiorentina e Milan, dove ha trovato finalmente ritmo, fiducia e prestazioni di davvero alto livello. E' stata convocata prima in Nazionale Maggiore, e solo successivamente nella Nazionale Under-23, con le azzurre Senior, e sordisce infatti nel 2014 durante la vittoria per 4-0 contro la Repubblica Ceca, a cui segue la partita contro i Paesi Bassi. Viene chiamata in causa anche nel 2016, per poi non entrare nell'orbita dell'Italia delle grandi fino al 2022. Nel frattempo, colleziona due presenze dal 2018 nella selezione delle azzurrine. Nel 2018 partecipa al programma televisivo a tema culinario chiamato Little Big Italy. E' presente al settimo episodio ambientato in Siviglia, in cui, con lo spirito agonistico che la contraddistingue, vince. Nelle sue caratteristiche da giocatrice, ha quella di essere un'attaccante fisica e incisiva sui colpi di testa, tant'è che nella stagione appena trascorsa ha vinto ben 51 duelli aerei e incornato a rete per due volte in Serie A femminile. Mai, come quest'anno, si è dimostrata una punta completa, concludendo a rete sia con il piede sinistro, ovvero 5 volte, sia con il piede destro. 6 gol in campionato. Inoltre, ha il 21% di efficacia di realizzazione. Ciò significa che in media le bastano 5 tiri per segnare un gol. E voi, sapevate tutte queste curiosità? Fateci sapere se volete che parliamo di altre calciatrici. Grazie per averci ascoltato fino alla fine. Noi ci ritroviamo sempre qui, su questo canale, su Fairplay, storie di calcio, storie di vita.